oggi ricordiamo giovanni paolo secondo voglio parlarvene in un video perché è stato lui diciamo quello che ha fatto breccia nel muro enorme che avevo creato e ha dato inizio a quella che poi è stata la mia conversione anche se è stata lunga ci sono voluti anni passi avanti passi indietro eccetera i suoi ultimi giorni e soprattutto anche il suo funerale e il dopo sono state quelle cose che mi hanno portata dall'essere anticlericale ad odiare i sacerdoti ad odiare soprattutto lui perché quando vedevo il papa in tv io lo odiavo mi hanno stravolto mi hanno completamente stravolto la vita e mi hanno portato a mettere in discussione tutto quello che è stato il mio percorso nel satanismo e nel neopaganismo fino a quel momento c'è voluto tempo ci sono voluti anni passi avanti passi indietro ma è solo grazie a lui che io ora sono qui